Ci stiamo avvicinando a grandi passi alla festa liturgica di San Pio da Pietrelcina e nel corso di queste giornate stiamo imparando a conoscere alcuni suoi figli spirituali che attraverso il contatto con padre Pio hanno cambiato radicalmente la propria vita ed ora sono incamminati verso il riconoscimento ufficiale della santità da parte della Chiesa. Assieme a Francesco Bosco stiamo dando delle grosse linee in sostanza di queste figure ed oggi vogliamo approfondire quella di Giocondo Pio Lornia, un venerabile dell'ordine dei Domenicani che nel titolo dell'articolo che tu hai dedicato a lui su voce di padre Pio dell'aprile del 2019 hai intitolato così il Domenicano che riconobbe anzitempo la santità di padre Pio. Infatti siamo in questa grande famiglia quella dei Domenicani dove anche qui padre Pio ha tracciato soprattutto tra i tanti figli spirituali. Ecco padre Giocondo è uno dei primi che si accorge della grande santità di questo frate Cappuccino del Gargano perché? Perché di ritorno da un viaggio a San Giovanni Rotondo del suo provinciale padre Righi. Padre Righi gli racconta di questo frate. Padre Giocondo è stato un religioso che ha scritto tantissimo. Lui appuntava tutto su un diario. Ci sono tanti diari tra cui ci sono anche dei diari che non sono ancora stati letti. Pensiamo un po' di quanti volumi. Io personalmente ho potuto constatare nell'archivio privato oltre a questa lettera inedita di padre Pio da Pietrelcina che rispose a padre Giocondo anche di tanti elementi che mettono in risalto anche la figura di santità di questo religioso Domenicano. Lui scrisse padre Pio è il più affabile, cordiale, angelico e obbediente. Gli ha guarito gli altri e continuerà a farlo per sempre. Queste parole che arrivano in un momento particolare, cioè siamo negli anni venti, quindi padre Pio viene scoperto tra virgolette dal mondo nel 1919, il maggio del 1919. Già quindi negli anni venti lui va a notare, pensate un po' nel suo diario al 5 gennaio del 1923 raccontando di questo frate. È umilissimo, cordialissimo, due occhi luminosi, ha un sorriso più che angelico, divino, ha guarito altri, domandavano per sé l'infermità, ricevette le stimmate dopo un digiuno di 40 giorni, solo prendendo l'Eucaristia. Qui sicuramente ci saranno degli errori legati a questa storia che lui ha anche ascoltato, forse si faceva riferimento al periodo trascorso a Venafro, la cosiddetta quaresima di padre Pio. Getta continuamente sangue dal costato, un po' dai piedi, nulla dalle mani, scrive. La febbre talvolta la sale e non lo lascia per 5-6 giorni, arrivando fino a 48 gradi. Celebra la messa fissa, prima il tabernacolo e poi l'ostia. Questo è quello che lui descrive, noi non sappiamo effettivamente se lui sia stato qui a San Giovanni Rotondo o abbia avuto tutte queste notizie attraverso anche altri suoi confratelli, tra l'altro tutte queste notizie che lui ha raccolto e che poi ha chiesto in un certo senso, prima di fondare questa congregazione delle Imeldine dedicata alle suore domenicane della Beata Imelda, ha chiesto, io credo proprio di sì, anche se non abbiamo una conferma certa, a padre Pio se era sulla direzione giusta. Ecco, chi era Giocondo Piolornia? Lui nasce a Popetto di Tresana, Macerata, il 27 settembre del 1870. Subito entra tra i dominicani, trascorre i tempi della formazione a Bologna ed è qui che si innamora della spiritualità della Beata Imelda. Poi il passaggio a Venezia dove diventa la sua città d'adozione perché qui lui trascorre tutto il tempo della sua giovane vita, lui mora a 58 anni, come parroco, riprendendo un po' anche lo spunto della carità perché lui va sempre incontro ai più piccoli, agli orfani, cerca di dedicare attenzione in questo senso. E poi punta sulla formazione delle giovani, dei giovani in particolare anche di queste ragazze che gli danno una mano, quindi nella scuola, gli danno una mano nella formazione dei ragazzi, nel catechismo. Infatti lui fonda per i più piccoli l'asilo degli angeli, diventa il cofondatore del patronato della Divina Provvidenza, organizza la Caritas di Sant'Antonino per i poveri, altra Caritas del Beato Giacomo Salomoni durante la Prima Guerra Mondiale, favorisce la comunione frequente ai fanciulli, istituisce gli adoratori del Santissimo Sacramento. Infatti consacra la parrocchia a Gesù Sacramentato, la sua parrocchia che è la splendida basilica dei Santi Giovanni e Paolo che si trova appunto a Venezia. Qui apre l'asilo proprio perché lui dice ogni bimbo è Gesù. Le famiglie più povere gli affidano i figli, le giovani della parrocchia quindi si offrono come assistente. Come entra padre Pio nella sua vita? Tra queste giovani ragazze, le prime dieci che creano e quindi con lui fondano la congregazione delle Imeldine, ce n'era una in particolare, Maria Bassi, dove lui vedeva la ragazza che doveva assumere la guida di questa congregazione, però purtroppo questa ragazza sta male. Si mette a disposizione della congregazione, ne resta fuori, anzi mette a disposizione anche i locali della sua abitazione affinché queste suore, queste sorelle stiano insieme per vivere questa spiritualità, però purtroppo Maria Bassi sta male, è una malattia strana la sua che colpisce questa ragazza e lui vuole a tutti i costi che questa possa essere, ecco, possa strappare questa grazia al Signore. Allora lui che cosa pensa? Pensa subito a padre Pio e gli scrive, gli scrive una lettera, io sono stato nell'archivio che conserva tutto quello che è, tutta quella che è la vita di padre Giocondo Piolornia e ho... Quindi una lettera inedita tu dici nel tuo articolo? Sì, padre Pio scrive a padre Giocondo, l'abbiamo anche pubblicata, di questa lettera inedita come risposta, infatti padre Giocondo prima di scrivere a padre Pio non scrive una lettera ma ci sono quattro bozze di questa lettera, lui scrive, cancella, riscrive... Indeciso magari su cosa fare... Indeciso, sì... con le suore abbiamo cercato anche di individuare... diciamo che lo stile della lettera è sempre lo stesso, però lui è come se volesse puntare ad una precisione, volesse in quel momento dare il massimo per chiedere questa grazia, tant'è vero che padre Giocondo crede nell'aiuto spirituale di padre Pio, crede fermamente in questo aiuto, tanto che scrive, noi desideriamo una grazia da Gesù sacramentato per mezzo della Beata Imelda Lambertini, la nostra patrona dell'opera, una grazia che potrebbe servire, scrive padre Lornia, alla causa di canonizzazione così della nostra Beata che visse e morì per estasi d'amore eucaristico e quindi padre Giocondo chiede preghiere per ottenere la grazia della guarigione di questa ragazza, ci tiene molto a questa richiesta e questo lo si apprende dalle diverse brutte copie di questa lettera che vengono conservate e il 3 gennaio del 23 padre Pio risponde, carissimo padre pregherò secondo le sue santi intenzioni, il Signore voglia confortare le anime che lei mi ha raccomandato, speriamo sempre nella sua divina misericordia, in quanto a lei ringrazio la sua bontà nel pregare per me, anche lei chieda per me al Signore quanto io prometto di chiedere per lei. Quindi la risposta di padre Pio è una sorta di speranza nell'aiuto di Dio, una grazia che purtroppo però non arriverà, infatti lui annota che Don Scattolin di ritorno da padre Pio, da San Giovanni Rotondo, gli parlò di lui, del suo impegno di questa lettera. Alla fine non sappiamo se effettivamente si è sceso a San Giovanni di Rotondo abbia incontrato padre Pio, però da parte di questo frate dominicano c'è stata tanta devozione e un affidamento a questo frate Cappuccino che in un certo senso lo ha guidato e che è venuto poi a mancare l'8 luglio del 1928 a soli 58 anni. Dunque il venerabile Giocondo Pio Lornia è la figura che abbiamo presentato quest'oggi e che trovate meglio descritta ovviamente all'interno dell'articolo voce di padre Pio dell'aprile del 2019 che tu hai voluto dedicare proprio a quest'altra figura di santità che è stata stravolta come ecco questo aggettivo che stiamo utilizzando in questi giorni dalla vita e dalla santità stessa di padre Pio. Ci rivediamo domani con una nuova figura, un nuovo figlio spirituale, grazie Francesco, grazie a tutti voi.